Ma al destro. Certo che uno quando sa che è in campo Loao si sente diverso, anche chi lo guarda la partita, ma soprattutto i compagni di squadra insomma. E' come avere in porta Tatarusano e avere Mignan, con tutto il rispetto per Tatarusano. La squadra ha una condizione diversa. Ma lui li ha questi conti. E beh lui è un giocatore sicuramente di grandi qualità e quindi non mi aspettavo, e lui le fa queste cose e le prova, perché già provarle è tanta roba. Attenzione al Milan, tiro di benessere, gol! Tiro di benessere, gol! Triangolo con Giroud! Bene, 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 benessere, ser, 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 ser! E' dei gol, e' dei gol, e' dei gol, e' dei gol! E' dei gol, benessere! Bene, bene, benessere! Bene, ser! E' dei gol! E' dei gol! L'errore gravissimo della difesa della Lazio che è uscita malissimo. Adesso vi mostro tra un attimo la lavagna, me lo riguardo un attimo anch'io per capire chi ha sbagliato l'uscita di palla dall'area di rigore. E' stata folle da parte della Lazio. Ah, proprio così. Ha lasciato, sì. Dal portiere, proprio tre tocchi, il pressing di Benassere su Marco Santonio, se non sbaglio. Mamma mia, veramente errorissima. Tra l'altro, Benassere riesce a fare un gol molto complicato, perché la palla gli rimbalza davanti, lui la colpisce e riesce a tenerla a bassa di sinistro e fa un grandissimo gol. Grandissimo gol, però è un errore della difesa clamoroso della Lazio. Però è importantissimo lo sillabo, importantissimo, il gol di Benassere. Secondo gol di Benassere, in campionato. Ricordiamolo che gioca nella nuova posizione, quella praticamente da trequartista. Vi faccio vedere cosa combina la Lazio, perché è veramente un errore grave, grave, grave quello della Lazio. La palla è sulla linea di fondo, Provedel passa la palla a Casale per rimettere in gioco, da rimessa dal fondo. Casale serve una palla lenta, molle, a Marco Santonio, che si fa pressare da Benassere, che gli strappa il pallone in scivolata. La palla arriva a Giroud, Benassere è molto bravo a seguire l'azione. Giroud gli serve il triangolo, Benassere poi in diagonale mette la palla in rete, ma, insomma, errore da... Gola a Teo, giocatore fondamentale in questo punto, sulla sinistra. Parte Teo, si accentra, arriva in termini dell'aria, fa tutto il campo da solo. Sinistro, tiro, gol! Altro gol! Capo lavoro! Capo lavoro! Capo lavoro! È partito dalla difesa, ha fatto gol! Teo, 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 Teo! Ed è gol! Ed è gol! Teo, 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 Teo! Ed è gol 2-0! Un capo lavoro! È partito dalla difesa, dalla sinistra, ha fatto tutto il campo, si è accentrato, è arrivato fino al limite dell'aria con il sinistro, l'ha messo sotto la traversa. Grande, 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 grande Teo Hernandez! Giocatore importante, adesso allarga le braccia e chiede l'applauso del pubblico. Complimenti, questo è veramente un grande giocatore. Eccolo qua, la ripartenza, addirittura, guardate, nella sua area, Megnagli e dà la palla con le mani. Lui parte, fa fuori un uomo, si accentra, arriva a metà campo, continua, ancora avanti, dà fuori aria, nel 7 la mette, nel 7! Col sinistro, nel 7! Meraviglioso, un gol veramente di quelli di... Quarto gol in campionato di Teo Hernandez! Bellissimo! Quarto gol in campionato di Teo Hernandez! Ha fatto tutto da solo, tutto da solo, tutto il campo, dalla difesa, deviazione. Se vuole, eh! Non ho più scaramanzie, fammela vedere la classifica! All'95esimo Gianni, ci voglio... Fammela vedere, c'ho un coraggio da Leone, di verità! 5-0-2! 0-3-0-4-0-5! Finita! È finita! È finita così! È finita così! Milan batte Lazio, 2-0! Diciottesimo, Benassert, trentesimo, Teo Hernandez! 2-0! 2-0! Il Milan torna la vittoria, dopo aver fatto questo passo falso in fausto in settimane in casa contro la Cremonese, e per ora si porta al quarto posto, stacca l'Atalanta, controsorpassa l'Inter, ma ovviamente il weekend calcistico è soltanto all'inizio, alle 18, l'altra sfida tra Milano e Roma, Roma-Inter allo Stadio Olimpico, domani un importantissimo... Atalanta-Juventus che vale tanto, tanto, tanto per la corsa della Champions League. La Lazio si ferma ancora a quota 64, terza sconfitta nelle ultime quattro. E rischia! Peccato perché oggi, come dicevamo, poteva... La doppia trasferta a Milano, 3-1 contro l'Inter, 2-0 contro il Milan. Quindi le milanese veramente in fausto per Sarri, che secondo me, anche, vedevo nelle ultime immagini, immobile che si fomentava per una palla sbagliata del giocatore all'ultimo minuto, ma volevo dire, sei stato in campo quasi 90 minuti... La squadra non ha girato tutta la squadra. Voglio dire, quindi mea culpa da parte della squadra... Pensate quei due punti buttati via con la Cremonese, questa sera come ti servivano. A cui ti potrei aggiungere i due buttati via con l'Empoli, i due buttati via con il Bologna... I due buttati via con la Salernitana... Però c'è da dire che la nota di questa squadra è questa. Quando c'è una partita importante, ricordiamo Napoli-Milan, Valai fa una grande prestazione. Questi 11 giocatori, questi titolari, sono una squadra vera che vale i primi posti. Gianni, a giro tutte hanno perso punti, non dirlo all'Inter, che ha fatto un filotto di partite una peggio dell'altra. Ma all'Inter c'è un'altra panchina, non ha noi in partina. Tu in casa hai fatto un punto con la Salernitana, un punto con l'Empoli e un punto con la Cremonese. No, 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 ma sicuramente. Capisci che in questo momento mettici un paio di vittorie e tu sei una di queste da un pezzo. E allora sì che puoi fare turnover prima del derby di Coppa. Assolutamente sì, se avevi comunque messo in cascina punti importanti con le piccole, di fatto le potevi vincere, no? Dovevi forse anche. Alla tua portata, assolutamente, oggi parlavi con molta più serenità e affrontavi con molta più serenità quello che è un match così importante di mercoledì. Intanto questa partita ha un grande vantaggio, al di là di questa classifica che oggi era imprescindibile. Oggi dovevi fare tre punti. Lo scontro diretto. Il fatto... Beh, lo scontro diretto non va bene perché hai perso quattro pere. E comunque non era scontato. È davanti alla Lazio. Abbiamo perso quattro a zero noi a Roma. No, il grande vantaggio è che hai questi quattro giorni che ti portano a questo appuntamento importante per cui solo due giocatori del Milan hanno fatto una semifinale del Milan Giroud e proprio quello là Orighi, quello di prima. E speriamo nelle condizioni di Leauri. Però hai una possibilità di lavorare, concentrarti su questa partita che sicuramente non ha bisogno di essere stimolata, però ci arrivi con un lavoro, con la serenità mentale. Sì, con un umore diverso, no? E certo, con la preoccupazione unica vera che è veramente questa squadra. Sì, perché ribadiamolo perché effettivamente c'è questa notizia. Il Milan batte la Lazio, si rilancia per la corsa della Champions, però dopo dieci minuti è uscito Leao con un problema muscolare. E insomma la situazione è allarmante, diciamo così, allarmante. Il Milan batte la Lazio senza Leao. Con l'infortunio di Leao nelle prime battute di gioco e la squadra, ribadisco ancora una volta, dimostra di avere un'organizzazione di gioco efficace e efficiente. Pur non avendo il fuoriclasse in assoluto che è Leao. 12 gol segnati in campionato. Allora intanto sono arrivate anche le ufficiali di Roma-Inter. Cambia parecchio nella Roma. Cristante gioca in difesa dentro al centrocampo. Camarà, Matice, Bove con Spinazzola e Pellegrini più avanzati rispetto all'unica punta che sarà Belotti, tra l'altro. Belotti? Gioca Belotti, sì. Adesso le ho un po' perse qui. Quindi a recuperare. Andare a recuperare. Sì, gioca Belotti in attacco. Per quanto riguarda invece l'Inter, tutto confermato, con un anno in porta. Darmiana, Cervi e Bastoni, Dunfris, Barella, Brozovic e Ceronoglu, Di Marco. Lukaku, Correa in attacco. Quindi la formazione è sostanzialmente preannunciata. Abbiamo ancora, credo veramente... Per gli amici dell'Inter, sanno comunque che mercoledì non ci aspetterà il Milan della Cremonese, ma questo Milan qua. Però similmente...